Anella bella, fai l'animatrice, sei molto animata, ha occhiato, ora vince. Allora, per questo concorso di cortometraggi, dove questi ragazzi faranno gli attori, vedrai che saranno brevissimi, saranno meglio di noi. E quindi a tutti i medici, al personale, agli animatori, un grande in bocca al lupo, e a tutti quanti, anche ai pazienti, insomma, fate come vi pare, mi raccomando, fateli belli questi guadrucci, fateli belli. Vi saluto, ciao, ci vediamo.